L'anno scorso avevo detto bene appunto, ero venuto, mi ero divertito, c'era un sacco di gente, era bello addirittura vedere, quindi ho detto chissà a garezzare come sarà. Avevo promesso che sono disponibile, sarei venuto e eccomi. Alla caratteristica sono un principiante, sono un esordiente proprio, quindi adesso vedremo di andare giù e far pochi danni e divertirci. La caratteristica di questa caretella è che è stata fatta in cinque giorni in officina e mio nonno praticamente ha smontato un capannone per fare una caretella. Una caretella tra l'altro non l'abbiamo proprio esattamente dietro, mi hanno detto che è un inno al nostro sindaco, una ruota panoramica. Sinceramente la vedo adesso per la prima volta, sono qui col presidente della provincia, con la MIM, la sindaca di Coriano e devo dire che è una sorpresa. Non so chi l'ha fatto, non so chi l'ha pensato, mi ritroverò tra poco lì con Stefano, vediamo di infilarci al primo tornante, poi dopo vediamo chi fine fa la ruota. Stefano Vigiali corre con le garatelle? Ci voglio provare, tanto adesso non abbiamo più niente da perdere, tanto vale provare comunque questo brivido, beh un ricordo di quando si erano ragazzi. Gliel'hanno mai detto che non si guida dopo aver bevuto del vino? No, è vero però qui si può, qui si può. Questa gara qui si può. Come si fa a fare una caretella di questo genere? Ha un po' di impegno in 5 e 6. Questa caretella come si chiama? Kamikaze. Bisogna farla prima cura e poi dopo il resto è dritto, quindi andiamo. Perfetto, siamo in regola. Matley fa qualcosa! E' la vendetta del Pulcino Pio. E' la vendetta del Pulcino Pio. Bene, allora attenzione alle curve. Pulcino Pio, è il Pulcino Pio, è il Pulcino Pio.